unità 8 di sono nato nel 1935 1 ascoltate sono nato a napoli nel 1935 e ho vissuto sempre qui ho finito le scuole nel 1955 con il diploma di ragioniere ho subito trovato lavoro alle ferrovie dello stato due anni dopo ho lasciato il posto alle ferrovie e ho aperto una piccola ditta di acque minerali insieme a mio fratello i primi anni sono stati difficili ma poi gli affari sono andati meglio negli anni 80 abbiamo guadagnato veramente bene ma ho lavorato tantissimo solo dieci giorni di vacanza all'anno e non ho avuto il tempo di farmi una famiglia insomma sono single come si dice adesso ma vivo con mia sorella e ho molti nipoti che mi vogliono bene due anni fa ho chiuso la mia attività e sono andato in pensione ma a casa non so cosa fare è così lavoro in giardino o vado al negozio di mio nipote e aiuto un po o vado al negozio di mio nipote e aiuto un po